Il 5 gennaio scorso la BCC di Aquara e l'Università degli Studi di Salerno hanno sottoscritto un accordo di collaborazione. Nell'articolo 2 viene specificato che le parti si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e quella imprenditoriale attuando forme stabili e continuative di collaborazione volte a promuovere il processo di sviluppo imprenditoriale e industriale di origine accademica attraverso le opportune forme di finanziamento, sostegno e sviluppo. Nel secondo punto, in particolare, la banca intende stimolare l'ecosistema territoriale dell'innovazione facilitando l'accesso alle equiti e agli investimenti per l'innovazione mediante l'individuazione di strumenti di finanziamento dedicati e in linea con le iniziative imprenditoriali riconosciute dall'Università secondo le modalità compatibili con il proprio statuto. L'Università, a sua volta, nel rispetto dei propri regolamenti, si impegna attraverso attività di comunicazione a favorire l'interazione tra la banca e le iniziative imprenditoriali riconosciute con il fine della valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico. La collaborazione tra le due istituzioni rappresenta la concreta possibilità di creare sinergie territoriali tra l'Università, le aziende e la nostra banca, ha detto il direttore generale della BCC di Aquara, Antonio Marino. Tutto questo per sostenere e dare fiducia ai giovani che saranno gli uomini del futuro.